Se non si può ottenere la notte di parte di APFA, di cui anche se avete un punto che a Minda non si può ottenere l'accordo con l'EPA, ma per me è avere un fichato che è parte di un'anima manovra che si può discutere, lo che il governo, nel caso che il ministro di Finanza si sa, ha un accordo con il sindicato che si è confermato, per prendere la parte di un'anima manovra in Banda e per me è come attenzione prima che parte di Pinchon, di cui non ci sono stata un'accordo con il sindicato, ma quella è la prima parte di cui non c'è una cosa che si non ci si può essere una regola di parte di Pinchon, in teore non, per ti implacare papà e pagare un'anima manovra, sta come se fosse avere un problema che non ti implacare papà e un'anima manovra del caso. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info che sta pagando la prima. Se vuoi, per esempio, se noi facciamo un round-down che dice che in 2010 deve avere 2.122.9 milioni di florini e in 2021 deve avere 2.256.8 milioni di florini. In 2020 deve avere 2.256.8 milioni di florini e in 2023 deve avere 2.256.2 milioni di florini. E in 2020 deve avere 2.256.8 milioni di florini e parte di deve avere 2.256.8 milioni di florini e parte di svb di casa però non è una parte di parte di deve avere 2.256.8 milioni di florini e parte di eisen di di statu di statu regolini e contabilità veranderti stag a il di che non sa messo cante di ecco ecco riva el